Uno, go! Ready! Buongiorno a tutti e quanti ragazzi, mi chiamo Matteo, lavoro per Clara Academy, che è un'altra scuola di Balmain, un concorrente, no? Siamo sempre a livello d'amicizia. Bravo! Il drink che propongo oggi l'ho chiamato Ruby Refresh. Gli ingredienti sono Absolut Ruby Red, con palmo. Poi dopodiché c'è lime fresco, quindi lime spremuto, scirocco di zucchero, centriolo pestato e un pizzico di blu di curacao che va a dare un po' più di colore al drink e va a richiamare l'aroma di agume che c'è nella rubirete. È un drink molto semplice da preparare, di conseguenza lo possono preparare tutti quanti. stavo dicendo, è un drink molto femminile, si presta molto all'estivo, essendo molto rinfrestante, spero che vi piace. Chiamiamo lime, mezzo lime sufficiente. L'abbiamo chiesto un lime squeezer, ma non sono in vocazione, ragazzi. Lasciugate in Alemane, non devi fare di tirare i bottigli addosso. It's a car wash. Car wash, car wash. Car wash, car wash. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.